Bella ragazzi, benvenuti su Fortnite, siamo oggi qui per andare a fare una fantastica Rizzo Squadre Già, sto registrando questo video per la quarta volta perché l'avevo provato prima e inizialmente ieri No? Ma poi a quanto pare YouTube ha deciso, proprio poco dopo che è stato pubblicato Di rimuovermi il video per violazione del nome della community, è la prima volta che mi succede Cioè, capisco il copyright, così, ma no, addirittura rimuovermi il video per incitamento all'odio Cioè, capito che era un po' più esuberante e ho detto qualche parolaccia Ma sinceramente addirittura incitamento all'odio mi sembra un po' esagerato Va bene Ho provato anche a fare ricorso, mi è stato rifiutato, quindi registriamo un nuovo video Che mi costa una cagata tanto, vabbè D'accordo YouTube, va bene Accettiamo le due stronzate Cerchiamo allora di essere un po' più calmi, tranquilli Nonostante io in realtà già in passato abbia fatto video sicuramente più offensivi Ho fatto video con più insulti, più rabbia, più cose Invece lì, cioè... Sì, ho detto qualche cosa, ma scherzando Ce l'ho detta sorridendo, scherzando Non in maniera aggressiva E mi hanno bloccato il video Va bene, d'accordo Adesso il mio video quindi è nella lista nera Inizia ad essere nella lista nera perché ho avuto il primo... Avvertimento Uh, ma va a falco Allora Vediamo un pochino di fare una bella Esa squadra, eh Con magari anche qualche kill Se riusciamo Ho cambiato di nuovo skin Ho messo quella di Thor Che era da un po' Che non la usavo Ed è una skin che personalmente apprezzo Mi piace molto Qui Wow Allora, dove atterriamo? Non è proprio il massimo In questa zona non è che mi piaccia tantissimo Atterriamo qua Vai Andiamo nella mia... Classica zona Proprio dove in realtà sono atterrato anche nella scorsa lista squadra Che ho registrato appunto ieri I lista squadra che appunto mi hanno... Cancellato Ma va bene così Tanto ora Registro sto video E poi si fa la live, eh Live di Fallout Assolutamente Sì, sì, sì Prima live di Fallout E poi se ho ancora del tempo Perché non so in realtà quanto tempo io ho a disposizione O gioco medico per registrare Anche un'altra live di Marvel Di Lego Marvel Super Hero No, va a fare un culo Sono caduto Ah, gioco Ah, lagga Dannazione La mia connessione di casa Che fa schifo In realtà la connessione è buona È solo che c'è un problema È lontana dalla PlayStation Cioè Dalla Play e il modem Ci sono tipo Dieci metri di muri Ma anche più va Altro che dieci metri Fai anche quindici Sono quindici metri E quattro o cinque barriere Fatte da muri Quindi Posso capire che Riusciremo ad uscire dalla safe Cioè dalla zona Dalla zona No O forse Mi Che culo Per un pelo eh Per due di vita Questa è magia Guarda una moto di quelle belle Che mi piacciono a me Vai Vai Sì però se ti blocchi così Arriva la tempesta E mi ammazza Se contiamo che io ho due di vita E vorrei evitare di morire E vorrei evitare di morire per la tempesta Anche perché perdere la moto Anche perché perdere la moto subito Ora che l'ho raccolta Non mi piace No No moto Oddio c'è Bender No dai con questo pompa Lo gradirei io Oh grazie bro Che mi hai un po' curato Oppure è la fontana che cura Non credo che sia la fontana che cura Fontana poi è una cascata Perché ho detto fontana? Non lo so Cerchiamo qualche nemico da Killare Boing Boing Oh cavolo vedi il lag Guarda guarda che fa il lag Il lag vedi fa questo A Bender Bate 5 bro Oh questo mi piace Vai con questa Vai Kaiwi Piglia piglia e scappa Abbiamo fatto ancora 0 kill bella questa risa squadre con zero kill oh 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 io ho il lag ma guarda non l'avrei mai detto che mi avrebbe ammazzato guarda non l'avrei mai detto sarà perché lagga tutto è l'ottimo titolo per il video risa squadre lagga assurdo allora una killer riusciremo a farla secondo voi secondo me neanche una oh 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 beh ma io sono sceso giù va bene ok amico mio vedrai te ne vendirai siamo ancora a 12 uccisioni per loro e 10 per noi mi sembrano un po' pochino sai che ti dico mi metto sull'alberello qua e col cecchino ammazziamo tutti 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 quelli che vedo se ne vedessi qualcuno oh guarda là vabbè è un colpo scendiamo giù voilà ah c'era la chiave vabbè no sali eh no sali ahhh perché deve laggare cappero ahhh chi c'è ma perché ma io li ho sparato anche prima e non l'ho colpito ma dai uff ahhh però stiamo vincendo per il momento poi sta a vedere come perderemo ma cioè ho una sola chi che schifo no no è mia porca miseria pezzo di schifo tra lagghi e compagni di squadra veramente merdosi che vergogna guarda che lagg oh è una donna cioè è veramente è indivibile oh almeno te grazie che rimani fermo riesco ad ammazzarti ok va bene non mi bastava lo mostro tanto e questo qui non mi frega che un altro mi abbia avanzato va bene così almeno 4 o 5 kill vorrei farle sapete ok ti devi devo schiacciare x e ho schiacciato un quadrato perché corri dai su voilà aspetta un po' che qua ce n'è uno ma che cavolo dici ma dai ma io gli ho colpito in testa e gli ho fatto 40 cioè lui mi ha colpito non si sa dove mi ha fatto mi ha sciolto no mi ha sciolto ma vai 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 muori 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 grazie mille che casino ho fatto fuori qualcuno senza neanche accorgermene va bene ma che cazzo ma buttati lì sotto prima perché si deve bloccare dai ahhh ahhhh holla fate mia parella sentra l'alba no ma porca miseria che balls bene visto come lagga bene il gioco stiamo vincendo per fortuna si 67 a meno quello uno peggio di me grazie perché non spara dai ma l'ho shottato io non lui ah mi ha rubato la kill che ladro che ladro scusate se parlo poco perché sono concentrato cioè concentrato in realtà non me ne frega niente però va bene andiamo 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 amico mi spiace oh che culo ma dai l'ho shottato io uffa mi rontino a rubare le kill che vergognoso va bene abbiamo di tommiamo alla lobby e io per questo video di fort... fortuna e tevist a squadra vi saluto e tutto Ciao ragazzi!